Che cosa dirà la gente di me? Che sono una persona vera. A un certo punto della mia vita sono stata la migliore pattinatrice del mondo. E quello me lo chiami pattinare? Smettila di parlarci, è il tuo nemico. Chi è? Con Jeff ho avuto il mio primo appuntamento. Avete già scopato? Venne anche mia madre. Per tutta la vita mi sono sentita dire che non avrei mai combinato niente. Sapete, non ho mai nascosto a nessuno di essere nata povera in una famiglia disagiata. Perché questa sono io. Perché un polteggio così basso? Giudichiamo anche la presentazione. E allora fottetemi! Antonia, non sei l'immagine che vogliamo per questo sport. A noi serve il modello di una famiglia felice. Io non starei mai con una merda che mi picchia. Tu picchiavi papà. È diverso. Scusami. Io non avrò mai quel tipo di famiglia. Buonasera. Le devo chiedere di scendere dall'auto. Hai pattinato come un toro incazzato. Mi sono vergognata per te. E a tutti quelli che vogliono farmi fallire, sapete cosa dico? Io non mi orrendo mai. Almeno quando ero piccola mi volevi un po' di bene. Ti ho resa una campionessa. Sapendo che mi avresti odiata, questi sono i sacrifici che fa una madre. Tu mi hai rovinata. Ti sto perdendo, vero? Che cosa volete? Siamo dell'FBI. L'America vuole qualcuno da amare. Ma vuole anche qualcuno da odiare. Ma vuole anche. Tornare. Ma vuole anche집ano e Autore dei sorrisi